28 agosto 1963 a Washington durante una manifestazione per i diritti civili che raduna 200.000 persone il leader dei diritti civili Martin Luther King usa forti parole di condanna della segregazione razziale pronunciando il famoso discorso del I have a dream Io ho un sogno che un giorno questa nazione si sollevi e viva pienamente il vero significato del suo credo Riteniamo queste verità di per se stesse evidenti che tutti gli uomini sono stati creati uguali